Al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano Dov'è il re dei giudei che è nato? Alla corte di Erode i magi chiedono notizie di Gesù di Nazareth. Lo sfondo è quello della piazza di Santa Maria del Buon Consiglio, uno degli scenari più belli di Barivecchia. E qui l'associazione culturale Badatea ha voluto ambientare la ricostruzione storica dell'arrivo dei re magi, uno spettacolo nato quasi per gioco l'anno scorso, quando la stessa associazione fu chiamata a realizzare il presepe davanti alla Basilica. Perché non metterci immagini, carne ed ossa, si chiesero. Quest'anno insieme a Baldassarre, Gaspare e Melchiorre, impersonati da due attori e un barivecchiano doc, un centinaio tra attori, danzatori e figuranti, un gruppo arrivato da gravina e battitori di carbonare, i timpanisti del Nicolaus, le ballerine dell'araba felice e tanti baresi che dopo aver assistito alla prima parte dello spettacolo hanno sfilato tra i vicoli della città vecchia. La rievocazione dell'arrivo dei magi chiude le manifestazioni in natalizie organizzate dal comune.